Un cordiale saluto dalla redazione di Flores Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla statale 1 Aurelia dove ci sono code per un mezzo pesante fermo in avaria 5 chilometri e 200 metri prima di Magliano in Toscana in direzione nord. In A1 rallentamenti per un veicolo fermo in avaria tra Valdichiana e Chiusi Chianciano in direzione Roma. Spostandoci sulla FIPILI, attenzione al veicolo fermo in avaria tra la diramazione per Pisa e Pontedera Ovest Ponsacco in direzione Firenze. Personale su strada in uscita ad Empoli Ovest provenendo da Firenze. Per la viabilità cittadina, Firenze fino a domani mattina alle 6 chiuso al traffico il viadotto del Ponte all'Indiano tra lo svincolo di raccordo con via Pistoiese e l'incrocio con via Giuseppe Martucci in direzione Novoli. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Grazie, buon viaggio!